Buongiorno a tutti e ben ritrovati, iniziamo oggi a parlare di registri. Abbiamo visto i flip flop, abbiamo visto i contatori, i registri sono una naturale conseguenza dell'utilizzo di latch o flip flop per poter immagazzinare e memorizzare temporaneamente, temporaneamente perché ovviamente si tratta di memorizzazioni di tipo volatile, nel momento che manca l'alimentazione vengono a mancare, comunque sono in grado di memorizzare un certo numero di bit contemporaneamente. Per costituire i registri si utilizzano in genere i flip flop di tipo D o di tipo JK e ovviamente devono essere messi a seconda dei bit che voglio andare a memorizzare un certo numero di flip flop, quindi ogni flip flop può memorizzare un bit, va da sé che se ne ho bisogno di memorizzarne 4 avrò bisogno di 4 flip flop. Questi saranno opportunamente collegati tra di loro e ovviamente nel momento che io vado a memorizzare, vado a scrivere su questi flip flop, devo anche poter gestire questi dati che ho memorizzato, quindi posso, devo poterli leggere, devo poterli scrivere, devo poterli poi leggere. I registri sono alla base di moltissime applicazioni quando occorre mantenere in memoria dei dati per un certo tempo, specialmente quando dobbiamo aspettare altri dispositivi che devono, bisogna aspettare ad esempio un sincronismo tra un dispositivo e l'altro, quindi abbiamo bisogno di congelare un attimino il dato, mantenerlo da qualche parte e poi poterlo riutilizzare. E sono alla base ad esempio di tutte le operazioni che sono dell'unità aritmetico-logica della ALU tipica dei microprocessori, quindi comunque sia è alla base di tutto, tutti questi, il discorso dei calcoli e della gestione dei dati. Andiamo a vedere come sono costituiti e come vengono realizzati. Lo vediamo insieme dopo la sigla. Ecco qua, ad esempio un semplicissimo registro a due flip-flop, quindi comunque ovviamente può andare a memorizzare due bit. La caratteristica principale che deve avere un registro è quindi quella di acquisire il dati, memorizzarli per un certo periodo di tempo e poi restituirli. ovviamente in questo caso vedete che i dati entram di 0, di 1 e poi ci sono le uscite Q0, Q1. In realtà possono essere configurati in modo differente i registri, cioè possono acquisire i bit dei dati di informazione in forma parallela, come vedete qua ad esempio io inserisco sia di 0 che di 1 e con il discorso del colpo di clock entrano entrambi nello stesso momento. Oppure c'è la possibilità anche di fare entrare i dati in modo seriale, quindi il discorso tra trasmissione parallele e trasmissione seriale. In questo poi sono le basi per capire anche i vari tipi di collegamenti e di cavi che vengono utilizzati anche e che sono stati utilizzati in passato per la trasmissione dei dati. Ovviamente va da sé che se pensiamo di logica le cose parallele sono più immediate perché io in un colpo solo inserisco dei dati e se nello stesso modo li prelevo in un colpo solo li prelevo. Invece il discorso seriale ovviamente va da sé che i miei dati sono uno in fila all'altro quindi entreranno uno per volta, verranno memorizzati uno per volta e verranno estratti, cioè restituiti sempre uno per volta. Il grande vantaggio della trasmissione seriale che si utilizza tantissimo è per il fatto ovviamente di risparmiare quelli che sono i cavi di collegamento e poter avere anche più velocità. Però non andiamo a entrare in altri campi più complicati. Generalmente quindi i registri hanno intanto un clock comune a tutti quanti e poi un reset in modo da poter sincronizzare e resettare questi flip flop contemporaneamente. Particolari tipi di registro sono i cosiddetti registri a scorrimento quindi shift register che hanno la particolarità che ad ogni impulso di clock il contenuto della cella precedente è trasferito in quella successiva. Anche qua può essere il discorso di ingresso serialo parallelo e uscita seriale parallela. Nel caso di shift register praticamente la cascata si ha in questo modo, si ha che ogni uscita, allora se sono di tipo D avrete collegato solo la Q alla D all'ingresso di quello successivo. Mentre in questo modo qua se si utilizzano invece i JK o i set reset si collegherà ovviamente il Q con il set o il J e il Q negato con la parte sottostante. e qua vabbè non l'ho tolto ma in realtà l'uscita poi dipende appunto come viene presa il discorso di come viene presa l'uscita però fondamentalmente l'accesso all'uscita c'è. Allora in questo caso qua abbiamo proprio che il dato poi ovviamente se ne possono mettere altri quindi ovviamente ogni ogni blocco può essere possono essere collegati vengono collegati sempre in cascata in questo modo quindi avremo tutti i nostri vari di 1 di 2 di 3 di 4 a seconda dei bit e a seconda appunto di come entrano ad ogni colpo di clock ciò che c'è su un flip flop viene trasferito a quello successivo. Vediamo un attimino appunto le definizioni di seriale e parallelo degli ingressi e delle uscite. Quindi riassumendo il registro a scorrimento lo scritto così rimane un po' più chiaro la particolarità è il collegamento che permette ad ogni colpo di clock di passare il contenuto di un flip flop quindi il flip flop diventa una cella singola di memoria nel successivo. Il caricamento dei dati può avvenire in due modi di tipo seriale, serial input o di tipo parallelo, parallel input. Allora nel caso del seriale semplicemente si avrà una cosa di questo tipo quindi questo sparirà e questo sarà il nostro ingresso di tipo seriale quindi del primo avrò avrò il mio ingresso di tipo seriale e al primo colpo di clock il dato entrerà in questo, al secondo colpo di clock verrà trasferito in quello successivo. Quando io voglio andare a fare il discorso del prelevare diciamo l'uscita io posso fare un prelievo così dell'uscita come ho messo qua quindi le uscite e leggere lo stato dei vari flip flop quindi in questo caso parallelo oppure posso fare togliere questo e fare l'uscita di tipo seriale quindi l'uscita sarà questa qua e qua avrò la mia uscita di tipo seriale ovviamente per riavere tutto quello che ho immesso e memorizzato avrò bisogno di tanti colpi di clock quanti sono i dati che ho immagazzinato. e quindi anche questo qua possiamo andare a scrivere se qua il caricamento, qua l'uscita, allora abbiamo detto il prelievo mi sembra una cosa più da banco però abbiamo detto che li chiamavamo la restituzione dei dati ma si mettiamo così allora la restituzione o uscita dei dati memorizzati può avvenire ugualmente in due modi quindi anche questo così qua abbiamo uscita seriale serial output e uscita parallela parallel output quindi a seconda di come sono gli ingressi e le uscite va da sé che abbiamo le varie combinazioni di registro che quindi tipicamente di questi ci si ricorda sempre perché i nomi sono abbastanza simpatici quindi possiamo avere un sisò quindi serial input serial output possiamo avere un sipo serial input parallel output possiamo avere un piso parallel input serial output e un pipo parallel input parallel output quindi le quattro combinazioni quindi andiamo a vedere ad esempio con quattro flip flop una configurazione che mi permette di fare sia un ingresso che un uscita seriale che un ingresso e un uscita di tipo parallelo quindi entrambe le configurazioni ve lo disegno un attimo ve lo disegno un attimo e stoppo la registrazione ok qua vedete ok qua vedete i quattro flip flop di tipo D ovviamente il clear e il clock qua comuni qua abbiamo l'ingresso seriale, l'uscita seriale, l'ingresso parallelo con un parallele enable che permette il preset del flip flop e le uscite parallele che sono quelle alle uscite dei rispettivi flip flop e quando si usano i vari registri quindi sisò, sipo, piso, pipo lo vediamo insieme nel prossimo video ciao